Da oggi a Pescara ci saranno 19 nuove rastrelliere per i possessori proprietari di biciclette grazie ad una sinergia tra l'amministrazione comunale e l'Automobile Club di Pescara. Presidente, una bella notizia perché a Pescara effettivamente mancavano delle rastrelliere. Non è che mancavano, noi abbiamo raccolto un po' quel messaggio che il sindaco Maci ha lanciato a inizio estate per il rispetto del decoro della cosa pubblica della nostra cittadina che è così bella, vedendo tante biciclette lungo il lungomare legate male, accatastate sulle aiuole. Quindi ci è sembrato un bel gesto, un piccolissimo contributo che diamo alla città di apprezzamento anche all'opera che l'amministrazione sta facendo. Quindi abbiamo voluto far realizzare queste rastrelliere mantenendo un po' lo stile di quelle che già esistono e abbiamo voluto anche inserire quello che a noi poi preme di più, che noi ci interessiamo di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile. Quindi cosa di meglio che lanciare nel centro della città e nelle altre zone dove verranno installate le rastrelliere è anche quel messaggio che noi normalmente portiamo quando siamo sponsor del Giro d'Italia. Quindi un messaggio per tutti i cittadini volto al rispetto reciproco, perché il rispetto delle regole, senza che lo diciamo, è di default. Però il rispetto reciproco, perché spesso dimentichiamo che un giorno siamo automobilisti, un giorno siamo ciclisti, un giorno siamo pedoni. Quindi non possiamo poi ogni giorno, a seconda di quello che facciamo, criticare gli altri. Allora noi cerchiamo di promuovere questo rispetto che è un sentimento fondamentale per la convivenza nelle nostre città. Devo ringraziare l'Automobil Club di Pescara, nelle persone del Presidente Sartorelli, del Vice Presidente Brozzetti e del Direttore Berardi e di tutti i soci che hanno sposato questa iniziativa. E quindi è una donazione che il Comune riceve. Ormai da anni abbiamo lanciato questa campagna di diffusione, di posizionamento di stralli per le biciclette. In questo caso non parliamo di posizioni multiple di biciclette, ma parliamo di elementi di arredo urbano anche pregevoli, appunto sponsorizzate dall'Automobil Club. Per quanto riguarda la riviera, è chiaro che ci approssimiamo al periodo invernale, per cui le rastrelliere che sono oggi presenti in grande quantità sul lungomare verranno poi anche riposizionate nel corso della stagione e in altri luoghi della città, proprio per offrire una buona alternativa ai tanti ciclisti che utilizzano la città. Ormai abbiamo superato abbondantemente il milione di passaggi di biciclette sui nostri contabici esistenti in città. E questo è un risultato molto lusinghiero, è il risultato di una politica sulla mobilità sostenibile che sta dando ottimi frutti grazie ai cittadini che la sposano in pieno.